E rieccoci, facciamo una mezz'oretta e poi stacchiamo ragazzi Andiamo avanti, vediamo se riusciamo a perlustrare senza più essere Tanto diamo una controllata in giro Ci diamo la nostra controllatina Questo è l'ospedale Dovremmo averle ammazzate tutti Per non tornare indietro La freccia che ho sbagliato mira, però guardate il sangue che gli ho fatto schizzare dalla testa a sti porci E' bello quando li prendi in testa, vedi proprio il cervello che si spappola Tanto guardiamo che non ci sia niente appeso al muro, combinazioni, roba varia Questo è l'ospedale, finalmente ci siamo arrivati Qui non c'è nulla, qui non c'è nulla E allora guardiamo questo lato qui Dobbiamo fare un pezzo alla volta Lì c'è un cassetto da aprire Questa sembra magazzino o qualcosa del genere Andiamo a aprirci questo cassetto Vediamo questa pistola Andiamo a farci questa stanza qua Così ce la togliamo dalle palle Sì sì ma lo so Ma dammi il tempo di guardare, di fare Non è che devo Buon tanto Rotto per rotto Qui Perfetto Qui Perfetto Con calma ragazzi Tanto ci ha segnato dove dobbiamo andare Ma l'avrei capito anch'io insomma alla fine Allora quel lato lì lo guardiamo dopo Lì in mezzo andiamo dopo Se no facciamo confusione E intanto Guardiamo qui Ok Siamo a posto Di qua abbiamo guardato Possiamo uscire dalla porta per educazione E qui c'è un porco che ci ha lasciato Il brutto che non rimangono i corpi Dovrebbero rimanere Sarebbe più realistico E adesso ci visitiamo quest'altro padiglione Come sapete gli ospedali A meno che non sia cambiato qualcosa Qui è dove siamo stati prima giusto? Fammi vedere E dove siamo stati prima qua? Sì 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 Abbiamo rotto i vetri Perfetto Allora andiamo di nuovo di qua Piano piano ragazzi Tanto abbiamo Ah i corpi ci sono Noi dobbiamo andare in quella porta lì Perfetto Allora adesso ci facciamo tutto il resto dell'ospedale Andiamo fuori Andiamo nella tenda Dobbiamo passare di lì Bene ma l'avrai capito anch'io Comunque Sai Un suggerimento in questi giochi non guasta mai Camminiamo un po' più forte Un po' più decisi E andiamo qua Che è dove eravamo Prima Vedi qui non ho visto una cosa Che era per terra Di qua invece penso che abbiamo fatto Sì è dove c'era quel tavolino Usciamo Ops Eh vedi Ogni angolo Bisogna proprio guardare tutto Cazzo Tutto Tutto Fuori però dobbiamo Chiaramente perlustrare Perché 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 Ci può essere roba Chiaramente da raccogliere E quindi perché ci sia roba da raccogliere Ok Qui dentro non c'è niente Dobbiamo guardare tutto Quindi per guardare tutto Ci facciamo prima questo lato qua Madonna è immenso qua dentro Eh d'altronde è un ospedale Spegniamo la luce qui Andiamo a vedere di lato qui Questo corridoio presumo che non ci sia un cazzo da prendere Ma possiamo guardare ogni secondo momento Qui Cos'è qua Ah è la hall questa Ce la guardiamo dopo Andiamo indietro Qui volendo passi anche di qui Ma noi facciamo le cose fatte bene Andiamo indietro Guardiamo negli angoli dei mobili Nei cassetti Se ce li fa aprire Perfetto Noi siamo arrivati di qua Giusto Giusto o sbagliato Giusto Giusto Ok Adesso andiamo di qua Vediamo se qua si può entrare Si può entrare qua O è vietato O è vietato Fatemi un po' vedere È vietato Quindi qui Presumo che non ci sia niente da prendere qua Però Non so se si può entrare Non credo Ecco questo è un angolo che non si può entrare A meno che non c'è Da entrare dall'altra parte Allora andiamo a visitarci qua Ecco qua Al massimo Vedete bisogna Non bisogna tralasciarle Perché poi se rimani senza poiettili Sono cazzi amari Ok Saltiamo da questa parte Qui Presumo che sia un altro reparto Proviamo ad andare a vedere qua giù Niente Quella stanza lì Non ci fa andare Vabbè Ma poca importanza Allora Facciamoci tutto qua Mamma mia ragazzi Qualcosa di Qualcosa di immenso Qui c'è da prendere Perfetto Quindi facciamo questo lato qui Abbiamo ammazzati proprio tutti Molto bene Andiamo a vedere da qua Poi andiamo Andiamo Poi usciremo Da questo ospedale Prima o poi Allora qui così Direi che qui c'è roba da prendere Vedi che bisogna Proprio guardare dappertutto Andiamo dietro questo bancone Ci facciamo fino in fondo lì Poi giriamo qua a destra Qui Qui non c'è proprio nulla Quest'angolo conduce da questa parte Ma noi lo facciamo di qua Accendiamo una lucina Direi che qui non c'è niente Perfetto 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 Queste dovrebbero essere le stanze di un pronto soccorso Qualcosa del genere Adesso dobbiamo andare ancora fuori Ehm Ehm Mica è finita Qui siamo al massimo Bene 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 Qui direi che A meno che non ti avvicini Che ti dà da prendere qualcosa Perfetto E anche Ops Qui c'è La vetrinetta da rompere No E qui poi si esce fuori Praticamente Allora direi che abbiamo visto tutto Direi che abbiamo visto tutto Dobbiamo andare a guardare La hall da questa parte Che vi ho detto che l'avrei fatto dopo Andiamo Tanto qui abbiamo guardato qua Andiamo di qua Di qua si esce Volevo andare a vedere L'ingresso qui Ma penso che siano i corridoi Che abbiamo sparato prima Qua Sì Questi sono i corridoi Dove abbiamo Dove c'eravamo nascosti Quando siamo entrati Di qua Perfetto Quindi io direi che dentro l'ospedale Il piano sotto L'abbiamo guardato tutto Possiamo adesso Se dobbiamo assolutamente Andare fuori Perché c'è roba da prendere Nelle tende Perché io mi ricordo Quando sono morto ieri Duecento volte Però io lo volevo fare Dall'altro lato Eccoli qua No Forse qua Sì C'è ancora qui da guardare Vedete qui abbiamo le tende Però andiamo a visitare Anche qua fuori Guardiamo tutto ragazzi Ops Ah di qua dove si può entrare E uscire Perfetto Qui sul camion C'è qualcosa C'è niente Quanto pare Molto bene Ci fa entrare E di qua c'è già una mazza da baseball Qua c'è un piccone Ma io preferisco l'accetta L'accettona Voglio vedere solo Per lustrare Bene 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 C'è qualcuno Ma di qua Eh vedi che qui non l'abbiamo guardato Eh Belli di mamma Qui bisogna venire a guardare Altro che No qui non si apre No qui non si apre Quindi di qua non si entra Se però io rompo un vetro Posso entrare? No 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 Non ti fa Non ti fa andare di lì E' la parte che praticamente Da dove siamo arrivati Vi ricordate che qui Mi sono dovuto nascondere Ok Ho capito E allora c'è solo più la tenda Ragazzi Da andare a vedere A meno che non hanno lasciato proiettili Qualcuno Qui Possiamo farci ancora un giretto Giusto perché tanto Farò un video abbastanza Non lunghissimo Però Vabbè Io direi che qui possiamo Lasciare stare Abbiamo solo più la tenda Da andare a guardare Qui cosa c'è da leggere Ospedale di Lake Satio Ok Perfetto Tutto ospedale c'è scritto? Sì Boh E abbiamo fatto anche questo Adesso Andiamo da questa parte qui Qui abbiamo sempre piccone Eccetera Perfetto E adesso andiamo nella tenda E poi possiamo andare Finalmente ad aprire Quella porta là Perché direi che abbiamo Guardato dappertutto Abbiamo tutto a posto Ok E ok Bene Io direi ragazzi che No Questo non l'abbiamo visto Oh sì Sì Da dove siamo usciti Perfetto Andiamocene Possiamo andare Abbiamo visitato tutto 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 Allora Andiamo un po' di qua Allora dobbiamo andare di qua Sì Sì E adesso di qua Non si torna più indietro Una volta chiusa E voilà Qui c'è un generatore Non credo che dobbiamo fare qualcosa Perché è già attaccato Niente Dobbiamo solo salire sopra Molto bene Andiamo Accendiamo una lucina Molto Molto tenebroso Questo ospedale Sembra un po' Silent Hill Però noi dobbiamo guardare Se di qua ci fa andare Non ci fa andare E apriamo anche questa porta Quindi dobbiamo sempre stare attenti A che cazzo va incontro qui Perché Qui sono uffici Sale d'attesa Presumo qualcosa Oh Ci abbiamo qualcosa da leggere Elenco scorte Essenziali Tamponi Con alcol Iodio Garza Bende di garza Con nastro adesivo Bende di mussola Guanti in lattice Morfina Bende Spille Gel Per rustioni Coperte Se disponibile Kit Sem Ok Perfetto E anche questo L'abbiamo preso Adesso Prendiamoci anche questo Prendiamoci anche questo Questo Ok Abbiamo degli integratori Quindi noi Allora Qui Possiamo andarci Ma qui abbiamo Apprendi Abbiamo fatti tutti Non so perché Me li segna Aspetta Aspetta E le balle Abbiamo fatto Ok E questi li abbiamo fatti Poi Andiamo a vedere questi Se ce l'illumina Apprendi Cos'è Respiro Raggio Modalità Ascolto Non ce lo da E facciamo un respiro Poi abbiamo Qui abbiamo da creare Io direi di fare una cosa Allora Allora Niente Non ce lo da Niente Non ce lo da Perfetto Questo ce lo da Le frecce Facciamoli tutti Va Niente Quest'altre cose Non ce le da da fare Mancheranno dei Andiamo a leggerci Due appunti Ospedale Lake Seattle Credo sia questo Trova il grande cartello Rosso Iene Morissero tutti Concentriamoci Sull'obiettivo E questo è quello Che già avevamo Ce lo da sempre Ma noi Ragazzi Abbiamo fatto Quello che dovevamo fare Prendiamo un'altra pinza Qua Cos'è Forbici Accendiamo la luce E continuiamo Il nostro viaggio Di perlustrazione Qui non c'è nulla Di lì bisogna andare Ma noi lo facciamo bene Così non ci confondiamo Qui c'è una stanza? Sì Ma no Pirla È il corridoio Con la scala Perfetto Direi che dobbiamo andare Di lì Sta cercando Questa Nora Fammi rompere Fammi rompere Perché in caso Che servisse Da scappare Almeno riesco a saltare No Questa è bloccata Allora ragazzi Entriamo qua C'è gente C'è gente C'è gente E ma dove cazzo Dove dobbiamo andare? Ah ok Bene Sono lì sotto Vedete che sono lì Guardali lì Ne ammazzo tutti Ne ammazzo Andiamo 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 Adesso qua dovremmo aprire Sicuramente Ecco Però Attenzione Perché Piano Piano Ebbè No no Ok Qui tutto al massimo Bloccata Ok Non ha importanza Magari ci arriveremo Da un'altra parte Anche perché qua Non vedo dove si possa andare Tutti sti Sto impianto di aria condizionata Quindi Entrata e mandata Eccola qua Era d'accordo Questa stronza qua Si Si che ci Eh Ti ricordo Che cosa fa Ebbene è passato da qui Dove è andata Non me lo so Madonna si è fatto bene Bastarda Che bastarda L'ha tradita L'ha tradita L'ha fatto Ah ecco Ehi C'è nessuno Da giù Nora Non sperare di salvarti Al diavolo Non Non No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.